ciao ragazze ciao a tutti e a tutti nuovo video blog barra che grigio come state spero bene allora spettamente sistema l'inquadratura ok allora fa molto caldo perché sta sentendosi molto caldo sì mi vedete mezza struccata ma non è quello il fatto è che mi sono truccata già da stamattina per uscire di casa voglio non voglio mi squaglio di sudore quindi vabbè niente volevo dirvi che anche se non vedete sempre nei video o perché sto facendo altre cose oppure perché sto decidendo che video fare e vorrei portare dei contenuti di video motivazionali oppure di video make up perché i video di make up mi piacciono molto di più dei video motivazionali ma ho capito che mi piacciono anche i video motivazionali se non l'ho visto male sì mi sa di sì e niente allora inizio col parlarvi del make up per adesso beauty del giorno ovviamente allora come beauty del giorno tanto per ma no non tanto per scherzo si vabbè voglio dirvi che sto usando questa della make up revolution questa qua non so cosa si vedrà mai ma questa della make up revolution e questi sono gli ombretti questi qua questi dove c'ho le due dittina io le due dittina e questi sono i due colori più l'altro che più giù l'ho utilizzato sarebbe aspettate no questo qua questo questo si si vede spero di sì e l'ho utilizzato tutto sulla parte mobile e non quella fissa perché mi ci trovo meglio così almeno per riuscire a farmi non dico proprio una passeggiata fare commissioni eccetera e veniva meglio truccarmi così alla schwe alla veloce alla tranquillità della luce vabbè niente nulla di che poi come matita non è matita ma come ombretto nella rima inferiore dell'occhio ho utilizzato questo qua che l'ho scavato quasi quasi così vedete si vede il sorco come dicono a roma il buco più o meno di sì allora con cosa l'ho prelevato con questo pennello a penna vedete che si vede sì questo qua l'ho prelevato con questo e niente poi come altro prodotto che ho utilizzato per usare prima ho utilizzato anzi dopo la palette ho utilizzato questa questo è il burro aspettate un burro cacao si vabbè un balsamo labbra come ve lo metto vabbè così un labbro sun un labbro un balsamo labbra via io non mi riesci a parlare non so cosa mi sta succedendo sono già due volte per provare a registrare questo video e non è che sia una schifezza no per l'amor di dio no quello no però però come posso dire o si vede male o due e si è storto il video non so cosa sta succedendo o si spegne la telecamera non so perché comunque labbro allora balsamo balsamo labbra eccolo qua questo vedete quello con lontano se si vede non so così questo e poi che avevo messo poco fa e queste due questa matita qui della l'oreal con la mina retraibile e col pettinino per fare le sopracciglia per così non possono andare da sole si sto cercando dove ho messo quel eccolo qua non lo trovavo il gel fissante della douglas o douglas douglas perché si dice non mi ricordo più neanche poco importa e come aspettate maschera e correttore ho utilizzato se riesco a trovare dove ho messo il mio correttore neanche se cascasse il mondo lo trovo ok allora come infallibile il more than concealer appunto come correttore ho utilizzato stamane questo qua sull'occhiaio no perché tanto sbrodolo come non mai quindi no comment lasciamo perdere cosa ho utilizzato sulle gotte per dare un po' più di funzionalità sul bronzer per farlo un po' scivillare meglio e che si appiccicasse meglio se no nisba non si attacca niente ma anche il più bronzer più bello al mondo niente questo della L'Oreal che è 327 cashmere ve lo dico sempre in ogni video che mi metto il beauty del giorno poi aspettate come matita scusate come come mascara ho utilizzato questo della rimel nero volume estremo nero c'è scritto qua non mi credete e questo qua vedete che mi sa che lo sto anche mettendo male ah raga mi ho tolto gli occhiali se no mi farei il riflesso e non è una bella cosa aspettate un secondo che qui un attimo solo eh ok mi devo arrangiare alla bella peggio comunque questo è il mascara come ben si può vedere e questo è lo scovolino questo è lo scovolino e niente si vede così acchiappa bene tutte le ciglia come dico sempre io e vabbè raga non me ne intendo più di tanto però a quanto so questo mascara qua mi fa un bel ciglione gigantesco bello io non è che lo lavoro molto perché non ho bisogno di fare troppe doppie passate quando mi vanno a truccare altre persone tante volte tipo se faccio una specie di trucco fatto da altre persone mi truccano anche meglio di come mi trucco io alle volte voi direte ma va si sa che è così si lo so grazie lo so ma quando mi trucco io non lo so perché mi piace e non mi piace dipende se è un trucco che mi lo faccio con molto impegno e studiando come lo fanno le altre youtuber allora top altrimenti un tanto vado da dagalas o non so da kia che vabbè da seffora non sono mai stata mai mai vita vita mia se non che ho acquistato qualcosa ma sarà stato qualche anno fa da dagalas allora cosa ho fatto da dagalas ah si mi sono fatta truccare ma anni fa ho anche la foto non so se si vede su youtube la foto che mi sono fatto un trucco tutto bello mi sono fatto a fare non a tutti è piaciuto delle mie familiari ma chissene a me un po sinceramente mi è piaciuto perché no devo dire la verità io ci godo di aver avuto quel trucco è troppo bello c'è chi non può piacere c'è chi può piacere sono gusti sono soggettivi non tutti possono piacere tipo che ne so vabbè chiudo qua perché sennò diventa troppo lungo ma quanto sono no 8 minuti di video scusate stavo guardando perché senza gli occhiali non vedo una mazza quindi vabbè comunque questa maschera in poche parole ti fa delle belle ciglia si mi fa delle belle ciglia ma non ho bisogno di troppe passate basta una sola passata per occhio e vado a posto tutto lì poi come correttore l'ho già detto l'ho applicato con questa pennella con questa beauty blender della eofitra si lo so voi direte ma non quella storia lì del tuo occhio tutto gonfio si la lavo sempre ogni volta che la utilizzo eccetera adesso troppo la devo rilavare perché sennò ciaone proprio il mio occhio si di nuovo diventa una palla grossa così davvero poi come terra bronzer ho utilizzato questo qua questa della rimel molto buona ma ahimè si sta finendo quindi l'ho già ricomprata ma non so se il colore andrà bene per me ci tengo a ribadire è tutta veramente molto bella ma è chiara quindi non lo so se andrà bene per me la vedrò quando andrò ad applicarla poi come burro cacao labbro san quella cosa lì ve lo faccio rivedere ho utilizzato questa qui bassa mo labbra che mi sta piacendo labbro san defences pf 15 tutto ok a posto come me la rietraibile barra pettinino per sopracciglia della lore al pari molto buona e la sto utilizzando perché mi aiuta a non avere delle sopracciglia a mostriciattolo già perché no questa è della douglas o douglas come si dice non lo so comunque della douglas ed è stra utile per non afflosciarsi per non diventare blu le mie sopracciglia e tutte le sopracciglia tutte a posto e mia cia usato per mascara no perché tante volte non lo so ho perso la ciglia per farvi intendere quindi questo qui può essere vostro amico come può essere anche il vostro peggior nemico quindi no non ci siamo veramente guardate no 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 poi altro prodotto assi come profumo beauty del giorno ho utilizzato questo dei tesori d'oriente ma io senza che ve lo dico sono andata in una boutique anzi sono passate di fronte alla boutique e affiancata una boutique vera una boccettina o più boccettine di profumo campioncini si può dire e mi sono prima mi sono spruzzata questa prima di uscire di casa il tesori d'oriente questa vedete sì ed è tè verde e verbena fantastica poi vi dicevo per l'appunto ho utilizzato anzi sono andata lì e mi sono spruzzata tornando dall'ufficio imbarcazione mio zio la un profumo campioncino una signora che conosco da anni e vabbè che fa la con la commerciante sono andata mi sono spruzzata un po di profumo e non so io non capisco ma aspettate sì me lo sento ancora un pochettino già c'è già è rimasto soprattutto qui tra il collo e la clavicola top mi piace molto buono non so se vuoi allora perché sia di dallas non mi ricordo la marca il brand però pare che sia un buon profumo aspettate che vi metto gli occhiali vi metto in pausa e torno subito bene ragazzi allora 12 minuti video madonna come sto sudando fa un caldo bestiale e verso le due qualcosa di oggi mi pare che doveva arrivare e infatti è arrivato un caldo veramente orrendo mi pare che qui in sardegna erano 40 41 gradi no 42 gradi mi pare che mi sembra che mi abbia detto mia zia si mi sa di sì ragazzi c'è da morire allora la finestra è chiusa i vetri chiusi ma le lette sono aperte le persone sono aperte perché ci sono aperte perché per farmi luce perché mi sono munita di munita è brutto a dire perché altro ho aperto la luce della lampadario perché sennò non si vede nulla tra ring light accesa che mi fa un caldo orrendo veramente osceno questo caldo e quindi ho detto o accendo tutte queste luci ring light e lampadario più finestra aperta ma tanto la finestra anche se l'apri il tempo è bello ma il cielo è un po' cupo mi sa che sia tra sole a tradimento ce l'occupo perché vedo da qui anche se non ho gli occhialetti che non ce li ho alla faccia al viso al volto voglio non voglio ma mi sa che ce lo sta diventando veramente cupo va beh a parte questo ragazzi non voglio deviare oltre nel senso non voglio trattare oltre perché tanto lo so che lo farò lo stesso appena posto vorrò altri video come questi sempre sul beauty o sul bagno a schiuma nella mia routine eccetera pj cricci dopo questo voglio fare un video smr non so se ci riuscirò non lo so non ne ho idea vediamo ciao like commento e non vi chiedo iscrizione perché lascio a voi la libera scelta ciao 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 e